Buonasera, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, che aspettative ha in merito a questo importante task force italo-russa per le imprese del territorio bergamasco? Ma diciamo che basta un numero di 144 imprese italiane che partecipano a questo incontro, che sono molte, 50 sono bergamasche, questo per dire quanto sia centrale il sistema delle nostre imprese, soprattutto della manifattura, rispetto alle prospettive di collaborazione economica che si legano a questo incontro. Siamo anche in una fase, mi sembra un po' più favorevole rispetto a qualche mese fa, che è le relazioni diplomatiche ed economiche tra la Russia e i paesi occidentali, tra cui l'Italia. Noi abbiamo spinto molto, devo dire, per tenere vivo il rapporto e per accentuare da qui in avanti le possibilità di collaborazione. Del resto siamo tra i primissimi paesi tanto in termini di acquisto che di vendita rispetto alla federazione russa e quindi abbiamo proprio un forte interesse. In più c'è una dimensione culturale che non molti conoscono, che lega Bergamo alla Russia, i nostri musei sono storicamente amici, collaborano, abbiamo fatto delle mostre insieme, abbiamo un importante corso di lingua russa all'università, collaboriamo per il bicentenario di Giacomo Quarenghi che ricorre proprio l'anno prossimo. E da quando abbiamo un volo diretto, oggi ne abbiamo due al giorno, che collegano Bergamo e Mosca, ci sono tanti turisti russi in giro per le vie di città alta, quindi c'è anche questo terzo fronte. Lei prima ha fatto un accenno al miglioramento delle relazioni diplomatiche, che idea si è fatto in merito adesso al fatto che con le elezioni di Trump potrebbero drasticamente cambiare anche i rapporti non soltanto fra l'Europa ma anche fra gli Stati Uniti e quindi l'intero blocco occidentale con la Russia? Sembra che il nostro Ministero degli Esteri abbia salutato con favore le aperture che vengono dalla nuova Casa Bianca, noi del resto avevamo già auspicato in precedenza che questo accadesse, il Presidente Drenzi ha partecipato al Vertice di San Petroburgo esplicitando questo auspicio, quindi se sono rose fioriranno e noi ne saremo i primi a gioire. Grazie a tutti!